Sono contento di essere qui, sono contento di sottolineare la capacità di collaborazione direte che siamo riusciti a pittere insieme perché questa è una cosa che è assolutamente vincente e che ci dà molta soddisfazione. La conoscenza dell'America di quel momento, dei primi anni del Novecento, cosa vivevano, qual era il loro costume, questo mi ha affascinato tanto che attraverso le strip puoi leggere, puoi ricostruire la storia che magari è anche molto lontana. Ci sono diversi giganti del fumetto, la prima sala riguarda Winston McKay, ci sono nomi come Floyd Gofferson, uno dei maestri della scuola Disney e poi il più inimmaginabile dei fumettisti che era Primo Carnera. Grazie a tutti.